Come li chiami? Sono Luca Spirito, palleggiatore di Rana Verona. Siamo molto contenti per la vittoria. È stato molto bello fare la nostra prima partita ufficiale stagionale davanti a questo bel pubblico. Siamo molto contenti. Ecco, Milano invece che dice? Io sono Matteo Cresischi di Allianz Milano. Ovviamente noi contenti della vittoria non lo siamo perché abbiamo perso, però è stata una bella partita, un buon avviamento nonostante il pessimo risultato, però abbiamo visto i nostri problemini e adesso sappiamo su cosa lavorare. Un set dietro l'altro combattutissimo. Sì, un set combattuto, un set men. Abbiamo alternato così, però sicuramente abbiamo estratto dei punti da rivedere dopo e per lavorare per la prossima settimana quando comincia il capirato.